Eccellenza, qual è l'emozione di questo momento? È un'emozione grande sentirsi accompagnati da una chiesa, un dono inaspettato, inesperato e certamente immeritato, ma che siccome diventa l'allegria degli altri, diventa poi anche la ragione della mia gioia. È un'occasione nella quale sento più vera che mai il mio motto, che è il motto dei preti 88, collaboratori della vostra gioia. Oggi mi sembrava che la gioia degli altri fosse la ragione della mia, erano gli altri miei collaboratori e adesso sono io che devo impegnarmi a rinnovare la gioia negli altri. Lei si è detto di essere figlio orgoglioso di questa nostra chiesa ambrosiana in cui è nato, in cui è stato generato al sacerdozio, ha richiamato naturalmente i giganti che l'hanno consacrata a Vescovo, ma anche chi l'ha ordinato a sacerdote, il Cardinale Martini e poi Monsignor Serentà, Monsignor Spezzi Bottiani. Ecco, cosa porta con sé così lontano? Beh, sono cresciuto alla loro scuola, sono cresciuto alla scuola di Martini, sono cresciuto alla scuola di Serentà. Da uno abbiamo imparato la passione per la Bibbia come luogo in cui si riscalda la nostra anima. Da altri semplicemente la tenacia dell'impegno pastorale, la passione educativa, sono cose che ci sono passate accanto ma alla fine sono entrate nostre, semplicemente per osmosi. Senta, il Cardinale Segretario di Stato ha richiamato alcune parole di Papa Francesco e ha detto non freddi esecutori, mai, ma collaboratori nel Ministero, intorno al Papa, per aiutare terre che magari sono povere, lontane, spesso dimenticate. Ma come l'ho già detto, l'incontro mio con Francesco è stato soprattutto l'incontro a Rio de Janeiro. Non potrebbe essere diverso, non potrebbe essere differentemente. Il nostro è un ruolo di animatori della fede, non di burocrati. Lui quantomeno in quell'esperienza ci ha insegnato come fare, come essere pastori. E sì, questo è un altro gigante che mi ha preceduto in questo cammino. Oggi Venegono era un piccolo angolo di mondo. E lo era in effetti. Con la grazia di Dio lo è stata e con la mia grande allegria perché è stata l'occasione per ritrovare tanti amici. Ad molto sanno. Grazie.